Sicilia non mi parlare del dramma di Pantelleria, quello che abbiamo subito, io e l'avvocato è stata una cosa orribile, è stata una cosa vergognosa, è stata terrificante, una settimana con le nostre mogli che è stata, si può dire, non si offendono quelle due puttane, no, non si offendono. Cashmere, un podcast morbidissimo, benvenuti ad una nuova puntata di Cashmere, un podcast morbidissimo, vai, è il momento. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri caro Lockdown, tanti auguri a te. E visto che c'è la norma non dobbiamo soffiare sulle candeline ma semplicemente dobbiamo spegnerla però secondo me tipo così. Tanti auguri, tanti auguri al Lockdown, tanti auguri al Lockdown che ha fatto da poco, da pochissimo, un anno, ha compiuto da poco un anno, dopo i primi passi, le prime parole, è diventato un bambino grande, gli abbiamo dato il lievito madre, lui è cresciuto. Quante notti insonni, ma adesso quante soddisfazioni, tante soddisfazioni. Dove lo puoi iscrivere all'asilo Needle? Guarda, siamo in graduatoria per metterlo a quello vicino casa, però vediamo se non troviamo. Stiamo sui 600 euro al mese. Eh lo so, lo so. Ma perché fate te, tuo marito, fateli se, o che fate? Ma guarda, c'è mia socera che ci regalerebbe tanto l'anno all'asiletto qua delle suore. Ah ma quello svizzero? Sono svizzere, loro praticamente, allora sono sostanzialmente creazioniste. Ah certo. Hanno quest'anno questa scuola. Ma senti, ma te ricurano, quante ore li tiene il lockdown? Lo metti lì alla mattina prima di andare a studio, Ale? Ma guarda, che lui dorme un'ora dopo pranzo. Ah certo, ma ce la fa già? E io ne approfitto per uscire e fare l'assembramento. Ah giusto, giusto. Ma te fidi a lasciarla a casa da solo? Guarda, ma no, a casa da solo ma che lo lascio, no? Ma te c'hai, chi c'è la svedese a casa? La tata? C'ho la tata, c'ho la tata. E non c'hai paura per il tuo marito? E comunque a svedese... Senti, guarda, ma che te devo dire? Ci ha dato una mano a montare tutti i mobili. Eh, dici, è pratica. In quello, devo dire, è stata tanto brava, è stata tanto brava, sì. Poi non lo so, su quel letto che ci ha fatto con il mio marito, si hanno pure provato. Dici, tanta, una certa... Senti, poi ti posso dire come cresce e cresce sto lockdown. Senti, guarda. Famolo a andare tranquillo. Ma sì, ma sì. Sì, ma io per esempio, quando mi chiedono di che sesso è, io manco lo dico. Non lo so, ce lo dirà a lui quando avrà 18 anni sto lockdown. Adesso noi non possiamo proprio dire. Ma posso ditte, è una cosa molto moderna e fai bene. Pure quella ragazzetta che rucciava, come si chiama? Come si chiama? Il mio marito ci andava pazzo, Emiliana... Emiliana... Ratoschini. Ratoschini. Emiliana Ratoschini. Che faceva il video Blue Red Linus. Sì, come no, con quello là vestito in giacca e cravatta. Ma te lo ricordi il 2013? Mi ricordo, mi ricordo. Mi ricordo, sì. Ma da quando c'è lockdown, quella giovinezza non c'è più. Non ce la ricordiamo più, non ce la ricordiamo più, infatti. Insomma, un anno del lockdown, ma quanto cresce. Ti ricordi i primi passi? Eh, mi ricordo. Ma quando è nato? Ti ricordi quelle sere d'attesa? Parte, non fa che succede. Parte, non si capisce. Hai fatto la foto con la manina con la pasta. Esatto. O portavamo un barcone e tutti quanti dicevano il maschio, azzurro, azzurro, azzurro. Io dico, no, non dimo il sesso del lockdown. Non si può ancora di me. Esatto. Quello, la pizza, gli abbiamo cucinato le pizze, gli abbiamo cucinato le cose, abbiamo comprato i clivi di madri. Che posso dire? Io quest'estate mi sono un pochetto spaventata. Eh, lo so, lo so. Perché c'è stato quel momento tutto aperto e ho detto che c'è, che c'è. Che pareva, lo potevi lasciare da solo. E invece poi per fortuna che si è ricominciato e alla fine staremo sempre insieme. Piccolo, caro lockdown. Cuccio, questo lockdown è. Quanti cazzo di dolci tipici italiani stiamo rivivendo in lockdown. No, ma le calorie, la quantità di zuccheri entrati nei nostri corpi grazie al lockdown. Eh, pensa quelli che si fanno due complanni in lockdown. C'è gente che già sta facendo il doppio complesso. Quanti è nata, sì, a marzo, a fine marzo, che tranquillamente... E li sta celebrando con brillantissimi post su Facebook. Ah, chi l'avrebbe mai detto? L'anno scorso c'è a Zembo, quest'anno a Zibibus. C'è a Barello Valle, Barembobu. Eh, sì, sì. Ragazzi, ci spiace, spiace a tutti. Ci spiace. Ci spiace che i vostri genitori amino a scopare all'inizio dell'estate. Perché se lo fossero fatto a gennaio per scaldarsi, come me... Sai che tantissimi sono nati a settembre perché si scopa a capodanno? Yes. È proprio la statistica. Mi piace pensare che i miei genitori, dopo il bacio sotto il vischio, si siano detti... Ho una bottiglia di moscazzi. Do you mind if I put my... E io sono nato così, a fine settembre... Ma perché parlava inglese o tua mamma, che era italiana? Perché negli anni Ottanta era esotico. Ah, certo, certo. Oppure ballavano tipo... Come si ballava negli anni Ottanta. Magari mio padre ha fatto anche corsi di pianola, quella da Durandurano. Quella pure un po' dei craftware. Esatto. Tu sei nato a maggio. Io sono nato a maggio. Quindi i tuoi genitori... Dunque in una meravigliosa sera d'estate. No, giusto. No, un po'... Agosto, agosto. No, settembre, ottobre secondo me era. Eh no. Ragazzi, la matematica non è un'opinione. 5 mesi, settembre, ottobre, dicembre, settembre... Fine agosto, fine agosto. Una cosa del genere. C'è la cassa. Io credo giugno e credo fine agosto io, quindi... Fregene. Sprile, maggio, agosto. Agosto, allora, quel circeo, quel circeo. Fu, no, ma non credo. Circeo. Con questa situazione d'estasera estiva. Nel, come si chiama, nel jukebox, i Duran Duran. Wolf, i Duran Duran. E poi, elegante. Non stiamo a... Esatto, non stiamo a citare battute volgari, ma allo stesso tempo, secondo me, molto divertente. Qua pare che stiamo parlando di bambini. Invece stiamo parlando dopo un anno. Era giusto celebrare questa strana e particolare situazione. Bizzarra condizione mondiale, nella quale mai ci saremmo pensati di capitare. Tutto questo... Ti ricordi all'inizio di perché c'è uno che si è bagnato un pipistrello? Ma quanto sarà buono sto pipistrello che è tutto sto casio? Ma muovo, io stai già... Oh, a questo punto sono curioso pure io. Dei far ben berra pipistrello che ha c'è pepe. Sì, sono letta Pogola. Una delle battute più ridondanti della lockdown. C'era un po' di confusione. Ti ricordi poi quando uscì quel video orrendo di una che mangiava una zuppa col pipistrello dentro? E poi si è scusata. No, ma non sapevo, non sapevo, non potevo pensare. Il problema era starnutirci sopra prima. Vabbè, quante battute, quante cose, quanto stancate. Siamo un po' stanchi. Siamo tutti stanchi. Infatti questa è una puntata serenamente di confessione. In cui ci confissiamo, esatto, ci sfoghiamo su quanto ci siamo rotti i coglioni di tutto questo perché ce ne vuole. Anche perché poi sembra che si dici che ti sei rotti i coglioni. No, maledetto! C'è sempre qualcuno che sta peggio. Va bene, allora te non devi rompere i coglioni. Ovviamente, noi consci del quanto sia stato drammatico questo periodo di cosa abbia significato per molte persone e cerchiamo di confrontarci in questa puntata con il nostro pregiato pubblico per fare un po' il punto della situazione. Esatto, quindi noi abbiamo già parlato di l'ultima sera in cui siamo usciti a bere a San Lorenzo e ci siamo detti ma figures, ma tranquillo, due settimane e siamo di nuovo sul panico. Due settimane e siamo a casa. Volevo chiedere, Tahir, come hai scoperto del lockdown e che peso gli hai dato quando è arrivata la notizia? Quando è che ti sei reso conto che stava succedendo? Ma ragazzi, in realtà io sono guarito dal covid il 3 marzo e il 4 hanno fatto il lockdown. Pensate. Anzi no, io sono guarito... Mi hanno dato il free trial. Sono guarito tipo il 30... No, sì, il 30. Il primo marzo, mia madre è guarita al 3, il 4, boom, lockdown. Quindi scusa, voi non avete neanche avuto percezione di quanto potesse essere pericoloso perché comunque all'epoca ancora nessuno si era reso conto. Perché non ci hanno voluto fare i tamponi. Cioè non ci sono venuti a fare i tamponi. Sì, perché all'inizio non è vero, sì, sì. Però io ero abbastanza sicuro perché ho visto mia madre proprio a un... non dico a un passo dalla morte ma quasi. Cioè roba proprio di svenire mentre camminava. Da ricovero, la donna. Sì, sì, sì. Era da ricovero. Proprio anche lei che piangela diceva portare all'ospedale, roba così. Che poi, grazie a Dio, gli è durata 5-6 giorni. Poi è passata. È passata. Sicuramente. Però, essendo abbastanza sicuro, mi sono andato un attimo a informare e dicevano 14 giorni. State a casa 14 giorni e poi fate come vi pare. Dopo i primi 14 giorni ha visto che c'era qualcuno che diceva raga, comunque è un po' una cazzata questa ai 14 giorni. C'era tipo un inviato delle Iene che ha detto... E' attendibilissimi sempre. Attenzione. Se era Giulio Golia attendibile. Se era bellazza ancora più attendibile. Non era un servizio. Poi però la signora ci ripensa. Questo ragazzo parlava del fatto... Siamo stati da Tyrussein. No, no, no. Parava semplicemente del fatto che non facciano i tamponi e lui poteva far pressione con la cosa delle Iene e lui dopo 30 giorni, 35 giorni ancora risultava positivo. Ah, sì, sì, sì. Quindi io e mio madre ci siamo barricati in casa. Barricati a casa. Per 55 giorni. Madonna. Avete fatto... L'isola dei famosi. Avete... Avete fatto il supermercato? No. Non potevamo uscire. Voi non potevate proprio uscire. Ah, no, scusa, scusa. Quindi era tutto ordinare... Sì, sì, sì. Grossi delivery. Tutto ordina... Neanche alla porta. 55 giorni sono quasi due mesi. Eh, sì, tutta. Quindi stavo barricato... Tutto il lockdown barricato con tua madre. Mesi dopo ho saputo di gente che abita a Trastevere, amici miei, che lui usciva e giocava una racchettona in piazza. Certo, perché poi in effetti avendo... Peraltro tu a quel punto eri super immune perché comunque appena c'è fresco di covid potevi essere proprio quelli che facevano i covid party e invece bravo perché hai resistito alla cosa. Questa ti fa onore. Una cosa non da me, eh. No, infatti. Non ce l'aspettavamo. Avevi la tentazione di partire e fare il covid party urlando sono immune togliendoti la maglia. Diciamo ad aprile non c'era proprio clima di festa in Italia. Non ricordo proprio questo gran clima godereccio. Carmelo, invece? Io ho aperto la partita IVA il 9 marzo e il 10 marzo avevo un volo niente, è saltato tutto. Ma mi piace pensare che tu abbia aperto la partita IVA come tipo, non so, dispensatore di presidi medici chirurgici. Cioè tu eri quello che vendeva le mascherine a 50 euro fuori dalle farmacie qui a Cipro. E quindi è andata malissimo. Infatti non ho molto da dire perché ancora piango. Che volo avevi il 10 marzo? In Francia. Però passando per la Germania. In Francia dove grande ironia fu fatta sulla questione ma questi fanno la riunione dei puffi con 5.000 persone da puffi. Mi ricordo che c'era quel momento in cui a noi stava succedendo prima e prendevamo in giro tutto quello che succedeva agli altri. Quello era pazzesco perché l'Italia era tipo una macchina del tempo cioè avevi due settimane di vantaggio rispetto a tutto il mondo. Io vedevo i video del comedy store a San Francisco in cui c'erano in cui c'erano i comici che facevano so yeah it's coming this covid you know this is something we gotta talk about e dicevo guarda fra due settimane non ne parlerai nel modo in cui ne stai parlando ora e mi sono ricordato di noi che facevamo le serate due settimane prima evidentemente dicendo ah raga mo c'è sta cosa io ricordo una serata di stand up che peraltro noi andammo a vedere nella quale ci fu ah raga dice che sta arrivando questo covid allora fammo così adesso ognuno si fa un corpo di tosse in faccia giusto per esorcizzare questa cosa ricordami qual era la serata la serata era peraltro ricordo anche il comico che fece questa cosa non dirò il nome perché era un nostro amico e era quella serata in quella via la bicana dalle parti di via la bicana ah certo sotto scala della galleria d'arte certo e beh si scherzava su quelle cose ma il momento in cui gli Stati Uniti hanno capito che sta arrivando anche lì è quando Cardi B ha detto she is getting real e lì tutti gli Stati Uniti hanno detto se lo dice Cardi B allora certo c'è bisogno di anche perché soprattutto se non lo dice il presidente per 46 mesi ma già è vero perché anche quella storia Trump dimenticato ma quest'anno ha avuto il potere di piegare il tempo in un modo è come se Trump si Trump ce lo siamo già dimenticati perché adesso abbiamo ben altre priorità in effetti ripensare a quel cazzo di cialtrone che comunque per mesi e mesi dice che il covid non esiste se ti puoi iniettare la mucchina nelle vene ti passa in quel caso peraltro sono aumentati i casi di morte in America di persone che si iniettavano la candeggina si o la bevevano la bevevano un paese che è stato all'avanguardia che adesso ha dei problemi tecnici voi ragazzi come l'avete vissuto questo covid no 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 non comidi lockdown la partenza se ben ti ricordi io Cassandra che la sventura l'avevo anticipata molto prima eravamo insieme una sera come tu che facevate tutti quanti i gradassi no 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 io già da fine gennaio dicevo ragazzi qua si chiude tutto è la fine è la fine e infatti ho avuto ragione quindi ascoltate bravo beh guarda e invece complimenti ce lo ricorderemo non dire mezza parola sul campionato allora allora approfittiamo ti chiediamo le prospettive per il futuro Alice aspetta questo mio superpotere ci tengo a precitarlo non funziona raccomando eh ma pensa un po' ah vedi io ho dei sentimenti avevo cioè quando ho dei sentimenti devo seguire le mie come la venere come le pizze come erano le pizze a un certo punto vengo colto da questa estasi e dico ragazzi questa cosa sta succedendo l'oracolo l'oracolo sì fammi una palla di pizze bianche esatto l'oracolo di Alice no io invece appartenevo alla categoria come ben sai come ben sapete certo non dei negazionisti ma dei no no non dei negazionisti ma dei come dire dei tranquilloni vabbè dei tranquillisti degli ottimisti esatto sì ma Cecilia molto spesso di fronte alle cose che stanno per accadere più orribili dell'umanità per un po' candore evidentemente è sempre ma figurati ma non può andare così come io mi ricordo il giorno prima c'erano le elezioni Hillary Trump se mi andai a dormire le ho detto domani mattina Trump figurati se mai potrà vincere Trump già dopo vince Trump ovviamente quindi non ascoltatemi allora no no infatti quando può succedere una cosa brutta e una buona generalmente se la sua previsione è buona può succedere purtroppo l'altra però è un po' un senso di protezione d'altra parte all'inizio del lockdown io penso che è proprio una cosa che si studia in psicologia cioè noi come esseri umani colti dal lockdown eravamo tipo bambini eravamo molto infantili nei comportamenti per cui comunque facevi quella cosa alle 18 ai balconi la pizza a casa tutti quei video che abbiamo fatto e a ripensarci adesso tu pensi una manica di deficienti però c'è un popolo no appunto è la condizione proprio del bambino capito io stavo a morire ho pensato al primo giorno io stavo a morire l'ho pensato subito però appunto mentre stavi morendo pensavi voglio fare una pizza datemi la possibilità di fare una poscaiola adesso adesso vado a menà dovecchi al supermercato dove la carta i geni li uccide questa le ammazzavo tipo il mostro di super mario no ma infatti diciamo che appunto c'era c'era un infantilismo un'ingenuità incredibile anche dolce però anche molto dolce e ingenuo no era dolce e ingenuo perché chiaramente era una popolazione assolutamente impreparata ad affrontare ora invece sì che siamo pronti vi ricordate di quell'evento che era Milano tornerà che era le 18 tu l'hai citato in una puntata c'è stata questa proposta di questo comitato non so composto da chi che diceva proponeva a tutti i milanesi di sporgersi dal balcone alle 18 e urlare dieci volte di fila forte 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 Milano tornerà Milano è sempre lì sono queste persone che magari si levassero dai coglioni in generale come atteggiamento però io ho avuto paura era follia quella cosa era una bella follia sì era veramente una bella follia non abbiamo diciamo all'epoca appunto ci fu questo questo atteggiamento da parte di tutti di totale così incomprensione della realtà e io una delle immagini più vivide che ho del lockdown del primo lockdown era che di fronte a casa mia alle 18 tutti i pomeriggi usciva fuori uno che ha il clarinetto e quindi lui suonava il clarinetto anche molto anzi chiedo scusa flauto traverso infatti potrebbe essere un tuo collega un mio collega se permette di fronte al suo palazzo seppe della mia via c'è un condominio con delle suore una casa con delle suore le quali ogni giorno alle 18 uscivano a guardare questo ragazzo di cui si erano chiaramente innamorate tutte perché sono tipo moniche di clausura i tosti seni non gli mostravano né i tosti seni né la tana di dio ma lo accompagnavano alla chitarra per cui loro da balcone a balcone il flautista e le suore tipo si scambiavano comunque c'erano la scaletta quotidiana e quindi poi erano un po' una insomma un mutuo perché lui a un certo punto faceva capito getrutal e poi però loro sono partiti loro proprio facciamo tu sei la mia vita allora loro lì partivano in minore tu sei la mia vita e l'altro io no ed era una roba bella però è nata veramente una storia d'amore una scena che veramente è meglio che non la veda Pupiavati perché ci fa la trilogia del flauto traverso abbiamo pensato di farlo uguale ma con Ezio Greggio al posto del flautista e con Belen Rodriguez al posto della suore Belen recitò in un film di Pupiavati con il grandissimo attore pugliese Vittorio La Frutta come si chiama? chi è? Emilio Solfrizi Vittorio La Frutta è un personaggio inventato Vittorio La Frutta e con Emilio Solfrizi e Belen che recita molto bene perfetto Belen ha fatto anche il film quello natale in Sudafrica se ricordo male delicatissimo c'era una scena con la scureggia dell'ippopotamo se non mi sbaglio che era un back to back era quello Pupiavati non mi ricordo in quale dei due film Corrutto e Le Leone erano alternate la scureggia l'ippopotamo e il rutto del Leone l'altra parte un momento è come quando uccidono Marlon Brando muore Marlon Brando nel padrino non uccidono muore Marlon Brando alternato al figlio ma quanto è brutta infatti l'arte che è nata sotto il lockdown le canzoni inutili che descrivono aspetta sì la cosa bruttissima è stato il momento degli artisti uniti quello musicale ma non poteva che essere brutto ricantando Il cielo è sempre più blu se vi ricordate no non me lo ricordo hanno fatto un artisti uniti contro il lockdown cantando ma il cielo è sempre più blu ma come lo cantavano tagliando la parte sugli agnelli tra l'altro sputando in faccia a uno dei più grandi compositori italiani di tutti i tempi uno e due la cantavano in collegamento ognuno in collegamento rispolverando anche Giuseppe Ferreri che quando si tratta di artisti uniti è sempre presente perché ha una voce che stacca e spacca stacca così molto bene a metà fra Giuseppe Ferreri e il doppiatore di un tamagotchi e un lavandino sì lo so e no quello sì avevo un sacco di idee e sono uscito un sacco di cose un sacco di momenti che ci lasciano ancora un po' sfughiamoci sfughiamoci questi sono stati i momenti in cui hai detto non ce la faccio più io adesso prendo a cragnate il muro se non mi fanno tornare a fare non so un pranzo no no mi ricordo l'effetto giorno della marmotta anche perché poi il primo è stato veramente lungo quanto è durato il primo due mesi e mezzo due mesi interi 4 maggio ah 4 ecco 4 marzo 4 maggio beh 60 giorni no veramente di giorno della marmotta ma no mi ricordo tipo la sensazione del caricare la lavastoviglie cioè questo gesto capito di che tu pensi quante volte l'ho fatto da tre giorni cioè sembrava una roba di 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 tornavi indietro nel tempo io ho pensato tante volte alla mia mamma e a tante mamme e anche a tanti papà quando dovevamo avere idee per la cena e il pranzo esatto quando cazzo mai devi avere due idee quattro di fila sì sì infatti brave mamme italiane che siete così creativi e bravi papà italiani che siete così creativi nell'assaggiare e nel dire è buono questo oggi ma quante volte hai dovuto inventarti cosa facciamo stasera cosa facciamo eh no no tantissime volte tantissime volte però pensa se tu abiti mentre in Italia comunque abbiamo una varietà culinaria pensa se tu abiti non so in Finlandia dove hai più o meno esatto però hai la varietà enorme di gin no gin non so però di alcolici che ti permette penso che sia soltanto quello esattamente Carmelo io in realtà ero quasi contento perché non stravolgeva la mia vita e mi sono portato le cose per lavorare a casa audio quindi dovevo registrare delle cose e ho odiato il flash mob delle spadellate sul balcone suonavano le padelle non ho mai capito perché allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te sì quel momento lì era abbastanza agghiacciante va detto io ho gli shell shock se rivedo i video del tipo che urlava ce la faremo madonna di dio madonna di dio che poi è diventato a suo modo una star no no infatti è una roba che ha dato una possibilità a tanti credo che quel momento delle dirette instagram è stato il momento più basso della civiltà occidentale dell'intrattenimento di tutti i tempi dell'intrattenimento sì 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 perché o avevi un'idea tipo quella che ha avuto Francesco Lancia Francesco De Carlo che creavi tutti a casa che poi è diventato un vero intrattenimento di livello ma poi tutti a casa è comunque intrattenimento è c'è contenuto c'è confronto quel momento atroce di stare tutto il giorno con il telefono in mano vedere parlare tutti di tutto quello secondo me ha peggiorato la situazione siamo ok siamo live ok aspettiamo che ci sia qualcuno oh ciao ciao Francesco ciao come stai visto ieri il tuo post bellissimo bellissimo e dovrebbe collegarsi adesso dovremmo avere ok Edoardo Ferrario ok allora buongiorno Edoardo benvenuto all'assemblea d'istituto del liceo linguistico di non so Abbiategrasso come sta Edoardo ah non siete il Dante di Vercelli scusate no pensavo di aver sì no bene ragazzi sì ho sentito ora la cosa del Dante scusa sì no no scusami ok Edoardo allora volevamo farti qualche domanda intanto vedo le solite domande ok come hai cominciato con la stand up comedy allora ho iniziato con la stand up comedy andando ad una serata di ragazzi scusatemi devo andare è arrivato un angelo un angelo del lockdown esatto che mi portava da tipo da Amazon non so ok allora esce Edoardo e allora speriamo che se vuole intervenire qualcun altro c'è la professoressa ha bisogno forse professoressa vuole partecipare non lo so no è stato è stato veramente un momento di c'era proprio tanto bisogno di confronto però a un certo punto bisognava fare il calendario perché comunque alle 11 c'era Giovanotti alle 12 e 30 c'era il DJ set dell'altro di Giosquillo che ballava gente impazzita che figata che figata secondo me quella roba lì ha peggiorato la situazione perché noi poi all'inizio avevamo detto che il lockdown doveva servire a ritrovare delle abitudini che avevamo perso quindi ci saremmo concentrati su noi stessi in qualche modo e invece poi è stato soltanto stare al telefono solo stare al telefono lucrare su questa cosa dello stare sui social prendere più follower quello secondo me ha fatto male a tutti tantissimo e ci si è scherzato tanto su questo ma non puoi non scherzarci immaginare se questo dramma fosse avvenuto banalmente nel 99 nel 2000 quando non tutte le case avevano una fibra ovviamente non proprio e avevi il 56k da smizzare col papà con papà che scaricava con tuo fratello le foto da Dago Spia con tuo fratello e la dad col 56k che fai? mamma mia pensa alla dad col 56k no veramente lì saremmo tornati a caverne nel senso è educazione privata papà che ti spiegava non c'era il delivery solo bofrost solo pizza no solo pizza l'avremmo mangiato altro che fare la pizza cioè un popolo che per due mesi mangia solo pizza margherita boscaiola capricciosa quattro stagioni fine questo era quello che il 2000 ti poteva offrire a livello di lockdown il vero orgoglio italiano mangiare solo e soltanto pizza per due mesi soltanto pizza per due mesi e poi immaginati anche dover dividere con tuo fratello il modem 56k per scaricare fotografie porno video dai mule amazing blowjob blonde 2 mb esatto per scaricare in mezza giornata in mezza giornata e tu stavi lì esatto con tuo fratello a dividerti la stanza bello sarebbe stato ancora meglio di come è stato questo qui ed era soltanto il 1999 esatto magari si sarebbero fatti tanti giochi in scatola secondo me si sarebbero fatti tanti giochi in scatola la gente avrebbe fatto tutte le cose che ci avevano promesso che avremmo fatto durante questo lockdown e che poi non sono state fatte per i social tra cui leggere imparare una lingua straniera suonare uno strumento suonare uno strumento no ma sai tipo era nel 99 avremmo ritirato la Treccani giù dall'armadio avresti capito studiato ogni giorno le cose in mancanza d'altro avremmo avuto cioè comunque era un periodo della storia molto più ricco quindi ci sarebbero stati molti più ammortizzatori sociali sarebbero arrivati di storia a tutti nel 99 avremmo avuto Presidente del Consiglio Massimo D'Alema Massimo D'Alema esatto quindi a cavallo guerra nel Kosovo e cose così fermi tutti niente si fa un bel lockdown abbiamo avuto un piccolo problema non so questa specie di giovani Tair Tair es Massimo D'Alema ah rega mo cesta sono Massimo D'Alema buonasera sono Massimo D'Alema bella rega ve sto a flexare un lockdown un infaccia e ci sarebbe stato esatto proviamo esatto a ricordare perché in quegli anni fine 90 fine fine 90 Massimo D'Alema presidente del Consiglio sì 99 ministro dell'economia eh chissà visco quelle cose così dico una cazzata come si chiama Amato Amato che io confondevo con Joe D'Amato che invece era regista di film porno di grande qualità non era lui grande fotografia non era lui che sì che cosa altra avremmo avuto ci sarebbe stata Rosi Bindi all'istruzione la dad gestita da Rosi Bindi Rosa Russo Iervolino sindaco di Napoli che invitava i napoletani a rimanere a casa statevi tranquilli a casa oh no mi sono innamorato sei la donna più bella del mondo Rosa ci sarebbe stata la puntata speciale di Libero con Teoma Muccari che chiamava a casa tutti gli italiani rispondevano tutti però funziona c'è una puntata di Libero straordinaria perché stanno tutti a casa e rispondevano e avrebbe chiuso colpo di fulmine avrebbe aperto le iene con i suoi primi servizi avrebbe aperto le iene sì esatto esattamente e cos'altro e poi no è questo fine 90 questo grossi tornei di uno a casa telefonate infinite infinite ti ami ma quanto mi esatto la pubblicità della SIP quella in cui mi ami ma quanto mi ami invece erano appunto soltanto sul lockdown di quanto potevi stare al telefono sarebbe stato diverso comunque no credo che un applauso vada fatto a tutti quelli che hanno avevano tipo non so tre figli durante questo lockdown perché noi non ci rendiamo conto nessuno di noi mi sa che adesso gli hanno cosa significa penso stare in casa con tre figli sì e in più devi anche magari lavori magari no quindi non è facile mi sa che hanno chiuso anche gli asili in questo noi prima scherzavamo sul mandare il lockdown all'asilo hanno chiuso anche gli asili sono chiusi sì credo tutte le scuole sì quindi credo anche gli asili ma anche l'università della strada è chiusa anche l'università della strada noi stiamo facendo lezioni a distanza per diventare dei criminali ecco questo allora questo è cortella a serramanico oggi abbiamo serramanico 1 abbiamo Ahmed Ahmed puoi allontanarti dalla telecamera per cortesia grazie grazie noi quanto frequentatori dell'università della strada non siamo nelle condizioni di imparare ad essere persone della strada senti ci posso fare una domanda per favore ci stiamo laureando a distanza attelio attelio ci posso fare una domanda dimmi dimmi ma quante volte quando faccio rapina non c'è bisogno di tirare fuori col telo allora allora questo ce lo chiedono in tanti allora innanzitutto non guardarmi strano perché io vengo lì e ti ammazzo no questo lo so lo so assolutamente porto rispetto ci mancherebbe artufello e artufello ecco appunto vabbè però scusa cose positive che abbiamo imparato dal lockdown ce ne sarà qualcuno la pazienza la pazienza che è la virtù no neanche neanche la pazienza no infatti no sai cosa che si dorme bene la sera noi essendo abituati essendo abituati a lavorare la sera sì io ho scoperto che effettivamente andare a dormire alle 11 non è così male eh lo so però noi adesso quando sì andiamo a dormire prestino prestino alle 11 mai però alle 11 mai alle 11 e mezza mai mai io per esempio adesso quando vado a letto mi faccio una rassegna di pensieri tipo mi sta avvenendo un infarto ho un ictus sempre grande positività poi tipo l'altra sera mi sono addormentata con questo pensiero ma il vaccino per la meningite quando lo farò a questo punto questi sono i miei pensieri ma ti stai preoccupata della meningite la meningite c'è da sempre il vaccino comunque posso dire una cosa proprio l'altro giorno Edoardo mi ha illuminato su una cosa che succede la notte con la serotonina e mi ha spiegato questo fenomeno che stai descrivendo tu cioè il fatto che la sera quando vai a dormire fai sempre pensieri orrendi e che senti nel circolo dei pensieri orrendi alla fine perché non ti addormenti più e cosa succede perché li fai il tuo corpo produce meno serotonina la notte perché non ne hai bisogno e quindi sostanzialmente se hai un momento di black out o comunque pensieri negativi quello si affossa cioè non hai nulla nel tuo corpo che ti permette di ci saranno fior di medici che mi smentiranno in questa puttanata che ho detto però l'ho letta da qualche parte amici medici se mi potrei confermare questa cosa biologi chiunque si va a dormire alle 11 e mezza e via eh sì esatto è un superpotere è un superpotere che ti addormenti in qualsiasi momento anche io si chiama depressione questo superpotere e ha a che fare col fatto che da un anno è un po' più difficile fare qualcosa tu Teir quando vai a dormire hai pensieri negativi o mai mai solo pensieri vado a dormire solitamente alle 4 del mattino dai pure oggi è finita dai a che ora vai a dormire 4? tardi sì vabbè dipende dalle 2 alle 6 del mattino ma sì dai sei in quella fase sei in quella fase lì da quando c'ho 11 anni che soffro di insonnia ma se soffri di insonnia oppure tipo perché lavori ti piace? no tutte e due cioè io mi riesco a addormentare quando proprio sono sfinito e mi si stanno chiudendo gli occhi se no mi metto a letto mi è successo di fissare 4 ore il soffitto oddio se ti metti a mezzanotte a letto non riesci a dormire assolutamente no però Teir ci hai raccontato che tu su Clubhouse russi quando tocca a te parlare eh infatti cioè se voi chiamate Teir se voi provate a sentire Teir su Clubhouse mi capiterà non entrate in questa ah ma infatti ti ricordi ti ricordi di Clubhouse ma infatti ma Clubhouse ma che è successo non è più è andato finita sta continuando tu tutte le sere stai su Clubhouse è quello no guarda non so effettivamente cose positive allora all'inizio c'è stato anche il boom di zoom di skype eccetera no però croce delizia perché su tante cose effettivamente è meglio cioè se prima nella nostra vita era per qualsiasi cazzata ci dobbiamo vedere appuntamento ci dobbiamo vedere ti devo dire adesso abbiamo evitato questa cosa Roma in particolare è una città che ti ha tipo dei tentacoli che ti portano verso il centro della terra perché guarda te devo dire una cosetta ho sto progettino ci facciamo un bel pranzetto a un prati eh ti parlo di questo progettino il pranzetto in prati si protrae fino alle sei e mezza di sera senti adesso mi devo alzare che sono le quattro e mezza c'ho i figli da pigliare esatto si alza con otto cascio e pepe dentro la pancia aspetta fammi chiamare un secondo pronto Ibrahim ciao senti ti vai a prendere te c'è la lancia dei miei moglie ah è con te ah bene molto bene appuntamenti in cui non ti dici nulla che si potevano tranquillamente risolvere con una telefonata di 20 minuti e questo abbiamo imparato a farlo a riunioni appunto mangiando in cui l'argomento per cui ci sei incontrati arriva fra il caffè e il dolce esatto senti poi ti dovevo dire ti devo dire quella cosa esatto ne parliamo la prossima stacazzata altra cosa io non so se abiti a Fiesole probabilmente è facile darsi un appuntamento se tu abiti a Roma guarda mi viene un momento abbiamo un appuntamento facciamo 17.15 17.30 vieni all'Eur pomeriggio ipotecato per andare all'Eur cioè Roma è una città che ti consente di fare due cose al giorno una la mattina una il pomeriggio qualsiasi altro momento in mezzo viene fagocitato dal traffico dall'impossibilità di arrivare però il problema di Zoom è che non puoi fare tardi non puoi dire Zoom è boom eccomi pronti ci sono eccomi due minuti e ci sono e sei in bagno eccomi dammi un solo minuto e ci sono dammi un solo ecco la però non ti spiace se fumo io sono sicuro con la carta igienica che ti pende dalle dita al 100% che l'80% delle persone che hanno detto devo fare dammi un minuto in più su Zoom Meet tutti in Italia quest'anno stavano cagando era il bidet quel minuto in più era il bidet se no lo fai dopo però no mi siedo un po' scomodo farti 5 ore di volo sul Milano-Tokio aeroplano poi scendi insomma poi si fa sentire la croccantezza tutto guarda in ritardo era solo per questo motivo mentre però in ritardo potevano essere figli di qualsiasi motivo immaginabile ma infatti bisognerebbe trovare un compromesso perché invece adesso ci sono persone che lavorano tutto il giorno su Zoom e su Skype ed è una follia perché chi lavora in ufficio chi prima lavorava giustamente ti dice se avevi una cosa cioè veniva il capo ti diceva una cosa ti faceva una roba adesso invece tutto quanto riunione riunione chissà se i capi noi spesso prendiamo in giro questa cosa il sessantenne capo la fa la molestia anche su Zoom allora Giovanna cosa abbiamo fatto con quegli orecchie fantastici ti alzi i piedi un secondo mi fai fare un tour della casa che collana l'assorbente però non scondiamo sei sempre in riunione tesoro dai pronti allora se vuoi che chiedi di aprire un po' la scosatura su Zoom ma siamo su OnlyFans mi fai vedere brava guarda io non so se ci porteremo dietro delle cose buone ma questa è un po' queste riunioni sai Tair quante riunioni fa su Zoom io posso dire che comunque ora non riferito a voi ma a un tu cosa stai per dire se non hai fatto nulla di produttivo non hai imparato qualcosa non hai guadagnato i soldi non hai migliorato la tua persona durante l'opera sei uno stronzo allora questa è una posizione interessante perché è la posizione appunto dei millennial cioè mentre invece i boomer sono stati completamente distrutti da questa cosa perché gli hanno torti il giocattoletto cioè dopo una vita in cui tu puoi decidere di fare quello che vuole 110 ricette nuove può essere lo scopo sì certo io questo non ho fatto nulla per due mesi proprio toni sul letto no infatti l'uomo poi è un animale che si deve in qualche modo c'è un istinto di sopravvivenza in differenza ciascuno di noi deve aver imparato qualcosa ci siamo un po' adattati ci siamo un po' in qualche modo però mentre se appunto a uno di 60 anni gli fai cambiare la vita in questo modo impazzisce perché dopo una vita in cui potevi fare tutto quello che volevi cioè andare a pranzo e partire così ti tolgo non tanto quella libertà con cui sei cresciuto non ti sembra vero se hai 20 anni ti adatti e fatturi più che in ogni altro anno della tua vita vero Tahir non deve essere stato facile per appunto i grandi sessantenni di questo paese tipo immagino Enrico Mentana che inizia a imparare a suonare l'oxilofono si mette in un corso online su youtube andiamo con tin 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 senza andare troppo lontano verso Enrico Mentana qualcuno qui dentro ha deciso di iniziare a suonare la batteria a 32 anni comunque adesso non voglio esatto dammi il primo piano che ti indico chi è lui esatto e quindi l'importanza della stampante invece avete mai fatto un'autodicharazione a mano le prime poi erano lunghissime e a mano forse la primissima sì io il gran duca di me stesso mi dinnanzi a voi ufficiatori della civiltà che carabinieri vi mostrate dinnanzi a me mentre io sono un gelato andai a prendere nel rispetto delle regole di questo after 8 più stracciatella vi chiedo perdono perché non starnutisco dal 2002 quindi non rompetemi i coglioni era quello che succederà te lo ricordi quando ci volevano fare la multa perché stavamo mangiando un gelato fermi noi dovevamo mangiare il gelato camminando sì io immagino che i carabinieri ci hanno fatto poliziotti non carabinieri mi sono messa tu per tu quel poliziotto da brava Acab certo sì sì e lui invece no no facciamo la brava capitano Acab le battaglie di moto luogo e di moto di stato in luogo le battaglie utili di questo paese andare a litigare con due analfabeti con la divisa che vogliono solo che vanno a rompere quindi alla gelateria Fata Morgana di Monti ma perché vai a rompere le palle molto buono erano l'incoda questi sono venuti con il classico modo cioè che è la Diaz sembrava sono arrivati io i miei non li tengo più citazione del film Diaz che volevano menarci tipo Bolzaneto perché mangiavamo un gelato e io da buon milanese ho detto no inizialmente ragione e invece la ragazza impazzita amiche dobbiamo fare qua è solito in Aldo Baglio esatto vabbè e poi ci sono state tutte le cose invece più sì credo le cose più brutte io veramente ricordo vabbè insomma sì a parte poi le cose drammatiche che tutti quanti vedevamo tutta la sera al telegiornale che era un incubo il modo in cui si è comportata la stampa è stata immobile apriamo questa vergognoso sciacalli profittatori lucratori è giusto dare informazione ma è anche importante come farla perché non è possibile cavalcare il terrore non è tanto la battuta è come la fai è come la fai perché porca puttana non è possibile ragazzi assistere quotidianamente a questo a rimpicarsi sono notizie più drammatiche poi dire tutto il contrario di tutto ogni giorno all'infinito giustamente la paura ma questo vale anche adesso proprio in quei giorni assolutamente sì 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 che cazzo e ricordiamoci che questo paese quando è iniziata scusa il saggio il libro più letto dall'inizio della pandemia penso che sia il libro di Andrea Scanzi ah sì penso proprio di sì cioè lui è il giornalista che di gran lunga ha il più alto numero di interazioni social e tutto quanto una persona che il giorno prima o qualche giorno prima che venisse dichiarato il lockdown ha detto ma siete impazziti mi stanno cancellando gli spettacoli per un raffreddore poi lui ha chiesto scusa e ci mancherebbe meno male tutti ci potremmo sbagliare ciascuno di noi ha detto stronzate sì però poi dopo non scrivi un libro dopo non scrivi un libro sui furbetti del virus o cose così te lo potevi rispondire allora io ho detto questo ma da adesso 200 pagine dove insulto altre persone che hanno fatto errori beh però dai alla fine se si era pentito cioè se aveva chiesto scusa magari poi ha cambiato idea dopo forse cosa hanno in comune Andrea Scanzi Fontana Gallera Salvini cioè 4 delle peggiori persone del lockdown non lo so sono tutti del Milan cazzo Andrea Scanzi è del Milan da Arezzo da Arezzo tu sei a retino e anziché lo dico per chi ci segue lui su Milan Channel fece un'intervista e disse Suso per me è la luce ora a voi non dire niente chi segue il calcio sa di cosa sto parlando e quindi no giornalismo è disastro c'erano i momenti dove scarrellavi sul telecomando passavi dall'1 al 2 al 3 al 4 al 5 ed era soltanto 8800 disastri sì sì 8.9800 allora facciamo le mascherine voi capite tutto così tutto così da un anno tutto così da un anno sì 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 una cosa un incubo e non è migliorata anche negli ultimi giorni ragazzi questa storia del vaccino cosa cazzo abbiamo letto argomento delicato molto delicato molto delicato però diciamo è importante informare ma è anche importante come dai la notizia insomma in generale tutto questo terrore per i vaccini insomma i vaccini ci hanno salvato da malattie che avrebbero decimato la popolazione mondiale dimmi ne due ma tutto tutto la poliomielite il tetano qualsiasi cosa non si può avere tutto questo terrore è un pochino fondato nel senso io pure anche di carattere sono ottimista quindi spero che tutto questo ci aiuti che i vaccini in qualche modo ci vengano incontro un giovane sentiamo le parole di un giovane sul vaccino Tahir te lo faresti boh sì dipende non mi so cioè di si perde da cosa e dipende il vaccino facci capire mi sono semplicemente informato sento vado al parcheggiatore ah che questi morono i vaccini aspetta fai bene a informarti questo è informazione no non mi sono informato non so nulla ah ok ma è il parcheggiatore sicuramente sì perché comunque sì appunto pure io credo nella scienza quindi se poi devo morire così me l'accorlo al limite però ma se perché però è vero molte persone si sono in quanti bar d'Italia è stato risolto il problema ma certo covid nell'ultimo anno ma certo che vai in un bar e senti oh ti ho detto se stanno a sbagliare sentimi macchiato eccolo oggi mi hanno detto hanno creato questa situazione opaca 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 è certo con la situazione opaca hanno detto eh quello dei puli con l'alcol pulisci bene ma guarda sì c'è sta amicognato dice che la soluzione salina deve passare per il succo di pera yoga e ti dà la soluzione salina Tony e ti dice che te passa ha lavorato per 20 anni in Kenya ho capito faceva il bracconiere hanno curato così in Kenya Carmelo tu che sei uomo di scienza sì per il cambio andiamo con un po' di disinformazione vai nutrizionismo sì sì anche biologo me lo farei ma mi ha mandato un po' in tilt il fatto di utilizzare l'RNA messaggero fa un po' impressione perché conosce insomma il meccanismo corpo e vita però ovviamente me lo farei totale fiducia ma io queste cose non le voglio sapere anch'io non le voglio sapere io mi fido della scienza basta io mi fido degli scienziati tra l'altro tutta la ricerca è sempre spiegata in modo che sia replicabile universale quindi è facilissimo non aver paura e replicare gli studi o addirittura entrare nei laboratori non è una cosa nascosta al mondo come pensano quelli che si fanno la mascherina con la carta da forno ecco altra bella immagine che ho del primo lockdown è Barbara Palombelli che in studio si fa questa mascherina con un foulard e prende la carta da forno me la metto in questo modo e è fantastico tutti avete un foulard di Hermès da 600 700 euro a casa chiamate la vostra filippina e ricordo un bellissimo con le forbici e le fate tagliare gentilmente questa bella mascherina e ci fu un bellissimo montaggio di Jenny Ferlopez che è un grandissimo di Instagram che aveva fatto questo montaggio con lei che faceva questa cosa e poi diventava mischeta e mi diede una grandissima soddisfazione ci fu quello poi anche vi ricordate quando si diceva che bisognava fare la mucchina fatta in casa certo perché all'inizio non si poteva trovare la mucchina in nessun non si trovava la mucchina non c'era più c'era soltanto quella un po' così che compravi e poi c'era e poi invece si diceva di farla in casa e anche lì io ci metto una goccia di bergamotto il mio segreto per il mio alcol fatto in casa ma ci metto un pochino di nocciola tonda o anche la gentile se non trovo la tonda viene buonissima ma andiamo in Sicilia a sentire come fanno come viene fatta la mucchina a Palermo i limoni signora i limoni questo era l'intrattenimento lo è stato per mesi esatto esattamente esatto mentre Andrea Scanzi quando la mucchina la usava da mettere sul pisello che schifo ma che schifo è quello che penso posso ricordarvi una cosa? certo vi ricordate invece il periodo estivo dell'influencer che dalla Sardegna facevano si mettevano le bottigliette d'acqua in testa per abbassarsi la febbre Federico Fashion Style questo non me lo ricordo purtroppo questo branco di influencer che si erano andati in Sardegna e si erano presi tutti il covid allora per rientrare poi dalla Sardegna al Milano si mettevano le bottigliette d'acqua fredda in testa per farsi abbassare la temperatura e passare i controlli bene i pezzi li chiamano stupidi si si ingegnosi invece si si no vedi poi non c'è stata nessuna conseguenza rispetto a queste cose non mi sembra che ci sia poi il fatto di aprire tutto questo bello perché comunque ristoranti scuole comunque tutto però gli interessi della nobile lobby dei localari Sardi e Pugliesi quella che c'è stata ascoltata perché è un settore assolutamente che aveva bisogno di aiuto esatto quindi hanno aperto tutto e infatti mi sembra che poi si andava tutto sì quando hanno chiesto risarcimenti per milioni di euro poi la guardia di finanza ha detto scusate ma tutti insieme l'anno scorso 45 mila euro avete dichiarato come se non avessimo chiesto nulla ci vediamo la prossima estate grazie la prossima estate ma sì infatti il mondo della notte sei dj come stanno vivendo è veramente un casino i locali sono veramente in difficoltà ma tutto anche discoteche localari onesti eccetera è veramente un disastro perché poi penso che saranno proprio gli ultimi tant'è che tanti si chiedono se come ricomincerà tutto cioè torneremo tutti quanti a fare una seratona in discoteca chissà cioè il seratone duemila persone in discoteca si farà io non lo so non lo so magari sarà come i topi che escono dai tombini dopo un anno ci guarderemo in giro sapremo comportarci era un'immagine non mi ha visto un'immagine un'immagine bella che fa l'espressionista di Luca Ravine come la mia comicità esatto senti posso dire una cosa secondo me semplicemente noi saremo come gli asiatici cioè gli asiatici sono molto abituati a queste tipe di pandemie di influenze di virus ho capito se mangliano scherzo no però per dire che è una cosa che capita a tutti di vedere in aeroporto ma infatti persone con la mascherina da tanti anni da quando hanno avuto l'asiatica infatti in Asia da sempre e secondo me succederà questo anche a noi cioè quando andremo in aeroporto metteremo la mascherina magari quello dell'alimentare che ti taglia il prosciutto imparerà a non sputarci sopra e starà più attento cioè potremo anche imparare delle cose positive ma gli asiatici non hanno spazio interpersonale non è un buon esempio che per loro tutti appiccicati sono anche se hanno la mascherina sì 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 ho capito però su tante cose miglioreremo cioè per esempio se ti fai un volo di sette ore non è malaccio tenersi la mascherina però io per asiatici Carmelo non intendo solo i cinesi cioè anche i giapponesi coreani che sicuramente non sono così tanto guarda la metro giapponese su youtube sì certo però pure a Milano credo nell'ora di punta o a Roma ma non i video che guardi tu Carmelo della metro su youtube sono pieni di pixel quindi non si possono raccontare invece che vi manca perché parliamo anche di questo ma poi cosa manca veramente perché la discoteca non sembriamo delle persone esibirsi fare le serate da vivo penso sia la cosa che ci manca di più in assoluto il lavoro insomma sì e io sono molto fiero che mi manchi il lavoro più che star fuori la sera a fare la baldoria nella sì il lavoro ti manca salire sul palco parlare con le persone ma sì anche proprio parlare con le persone confrontarsi col pubblico fare incontrare persone dopo dopo cioè io appunto anche tu quando abbiamo fatto le serate in Europa è stata una figata parlare con il pubblico di italiani all'estero cioè mi ricordo una delle cose più belle che ho fatto incontrare dei ragazzi italiani fuori parlarci dopo lo spettacolo cioè sono quelle cose che rendono bello questo lavoro e infatti mi manca tantissimo e c'è un podcast fatto da due vocalist fanno solo i vocalist in discoteca proprio come noi che si chiama Poliester e che si stanno dicendo le stesse cose si stanno dicendo e quanto ci manca quanto ci manca direi io lo so che tu lo sai che siamo solo noi ragazzi 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 non vi sto sentendo su le mani bananache tutto così il podcast però è identico però recitano praticamente le frasi che dicevano in discoteca sì 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 Hussein nella sala Bengala 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 ecco anche per loro avanzato 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 ma come fa ma come fa ma come fa tutte le più belle al tavolo di avanzato dimmi una persona con cui non avresti mai potuto fare la quarantena con Mauro Corona sinceramente colui che mi ha dato ascolto al bosco lo sai perché perché ha ragione purtroppo per questo non avrei mai voluto sentire i suoi sermoni perché Corona alcune verità le dice meno quando è da Bianca Berlinguer e si beve otto litri di grappa e fa ho trovato limito il verso dell'upupa un suo amico che imitava i versi degli uccelli e non era più Rai 3 era la corrida c'era una situazione di senti le bimbe di Conte che fine hanno fatto ma vorrei conoscere il Pirla che ha aperto quella pagina quando era Fanny e divertente questa cosa della politica sempre Fanny comunque il Covid ha annullato la politica completamente noi ci siamo già dimenticati di tutto Conte di tutti quei due anni di Conte li abbiamo proprio rimossi totalmente fatto fuori come l'ultimo dei traditori della patria si può dire Poraccio se trovate una situazione un po' più grande ragazzi fatelo voi stateci voi lì no ma infatti non so poi adesso non so bene come giudicare il suo operato però non lo sa nessuno è troppo difficile da considerare veramente è una situazione mai 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 è successa prima ti fa un po' effetto sembra che adesso però non vogliamo uscire dalla pandemia un po' sì cioè con quello che è successo anche negli ultimi giorni ma non si può ragazzi non lo so vedi come siamo anche più abbacchiati più difficile parlare queste cose un po' di speranza ragazzi dateci una punta di speranza hanno proprio la faccia di lui che avevano la speranza guarda ce l'ho in borsa aspetta no stava qua sotto eh vai vai non lo so secondo me allora visto che io sono la cassandra della situazione vai mi sento che dall'estate le cose saranno un po' migliorate però ci dobbiamo vaccinare questo io lo dico è vero pure perché se no ragazzi è un cazzo è tutt'uno noi nel 2041 facciamo il vaccino è il cazzo è tutt'uno che si morde la coda spero veramente che tutti gli anziani si riescano a vaccinare cioè quella è l'unica cosa che veramente mi interessa come priorità quindi questo è il mio augurio la mia speranza è questa anziani vaccinatevi anziani vaccinatevi Corrado Augas che fa la story esatto non si vaccinare però non si è accorto che ancora una volta ha risposto alla me sbagliata e come gli stanno facendo un vaccino particolarissimo lo Sputnik esatto Cecilia un po' di speranza vai no non ho nulla da dire anche perché stavo leggendo le notizie adesso su AstraZeneca i ritiri dei lotti a sto punto dicene due tanto la puntata ormai è così vai cosa hai letto ho letto che niente è ufficiale ovviamente il blocco del vaccino da paura stavo pensando perché mio padre l'avrebbe dovuto fare questa settimana ovviamente non lo farà come lui anche tanti nostri amici che magari sono operatori sanitari che hanno fatto una dose e non si sa se potranno fare la seconda quindi tutto inutile fantastico quindi io sto pensando già che anche questo 2021 sarà una merda e che ripartiremo i prossimi viaggi li faremo nel 2022 non lo so quando ci vaccineremo noi io non lo so noi ci vaccineremo beh artisti comici siamo proprio nei primissimi posti della lista e ora vacciniamo i pagliacci o facciamo come Selvaggia Lucarelli ha fatto un post nel naso rosso dicendo che i giornalisti devono ricevere il vaccino perché c'è un lavoro necessario anche il vostro è un lavoro necessario io farei un post indietro e tornerei su quello che ha detto Selvaggia Lucarelli sei proprio sicura che sia un lavoro così necessario perché non lo puoi fare da casa mentre posti da Facebook odio visto che sono una giornalista che è un anno che lavoro da casa eh appunto non credo che ci sia no voglio dire non è che non mi occupo di covid certamente ci sono quelli poi inviati che è un altro discorso sì ma voglio dire se ti metti la mascherina e stai in distanza insomma ci sono lavori in cui sei molto più a contatto deve essere stato divertente ieri quando appunto come diceva Alice prima al padiglione a Roma stavano per vaccinare tutti e arriva la notizia che è bloccato e intanto c'è lo signor Maglio di anni 81 col vaccino AstraZeneca cosa? esatto penso veramente no scusa dice che dice che te fa diventa scemo che te lo fanno bloccato dice che te vengono le palle blu non lo fanno più il vaccino te vengono te vengono i coglioni come due peperoni ma posso togliere la siringa ma lasciate dentro aspetta dai e urti una botta poi va il Carrefour va a prendere la roba passa dal metà detector tu 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 però si era inculato veramente del caviale dice che fammi vedere no la soluzione salina col succo da pera yoga ragazzi che cosa dobbiamo fare? eh sì tanto lo scenario cambierà per quando saremo fuori da qui lo scenario sarà già cambiato due volte sì ma certo ma certo arriverà Tahir un po' di speranza qualcosa ti vedo ma io mi ha colluto sto lockdown ma perché no in che senso perché no perché no cioè che speranza ci deve essere stiamo a casa facciamo i bravi basta ma Tahir è un cinema invece fai stronzi andai in giro state a casa vabbè ho capito ma i ristoratori le persone con le attività Tahir le imprese dai è facile dire ma non è vero ma che cazzo stai a dire ma che cazzo stai a dire ma se c'hai un ristorante sei disperato adesso Tahir un vinto unenne i ristoratori hanno un magno come se fosse il Belli esatto ubriaco prima di scrivere un sonetto e hanno un magno il Belli la mattina dopo ti diceva ma questo non mi piace strapiamilo ma chiedete a Tahir dov'era domenica a pranzo perché poi hai capito fa tutto ma lo so perché guarda non mi perdo una delle sue stories era mangiare erpesce erpescetto bravo a Piazza Belli no all'Osteria del Belli bravo bravo comunque ragazzi sono fiducioso sono fiducioso che adesso piano piano passiamo i visi adesso ci vacciniamo perché non c'è altra soluzione per uscire da questa cosa quindi purtroppo togliamoci dalla testa qualsiasi alternativa e poi a un certo punto raggiungeremo una sorta di immunità in qualche modo sta roba diventerà gestibile che dobbiamo fare non è che c'è molto altro da pensare eh no fino alla prossima pandemia non ci posso pensare non lo dico e poi dopo no ragazzi purtroppo no lo dico nel senso che è l'epoca delle pandemie e lo stanno dicendo rendiamoci conto che dobbiamo anche responsabilizzarci direi proprio di sì beh per esempio su abitudini di consumo per dirne cioè non fare finta che tutte le risorse sono infinite ditemelo con il bicchiere di plastica bravi sì ho capito però però proprio per questo che succede noi perché infatti non l'abbiamo neanche detto all'inizio della puntata perché oggi c'è questo questa roba che non è da cashmere tutto questo perché voi lo sapete bene che ci seguite questo non è cashmere perché? perché stamattina il solito bar che ogni settimana ci non offre ma paghiamo i nostri aperitivi il nostro bel vassoietto esperienze di vita che cerca sempre di infilare dentro al podcast e vengono sempre ignorate è un grande lui oggi era chiuso e quindi che succede quando è chiuso non abbiamo potuto prendere i nostri bei bicchierini di vetro le nostre belle cosine eccetera e abbiamo qui il plasticone di nuovo il plasticone che dobbiamo fare purtroppo quando poi tu chiudi le attività ci sono un sacco di problemi spiace per il delfino flipper che dovrà schiompare per colpa di questa puntata perché abbiamo usato la plastica ma anche se butti questa zeppola questo vignè di San Giuseppe in mare lui schioppa uguale per il polesterolo considera più per quello che per la plastica no adesso ricicleremo tutto ah sì? quanto te lo fai e guardi una settimana dopo con questo bicchiere nero tagliato no no nel senso che me lo mangio nel senso che mi mangio adesso questa cosa qui no però indubbiamente dobbiamo un po' anche rivedere abitudini di consumo di trasporto eccetera per appunto per capire che non si può continuare avanti a far finta di niente perché altrimenti le pandemie ci sono e come ma anche la paura della morte va un po' esorcizzata abbiamo troppa paura secondo me e come la si esorcizza? no in questo modo in realtà lo stiamo già facendo stiamo imparando ogni giorno ci stanno bombardando ci stanno bombardando ogni giorno di informazioni che riguardano la morte quindi penso che un pochino ci obitueremo di più beh sì tanto poi alternative non ce n'è credo ha preso una bella piega la puntata sì sì infatti ha preso una bella piega siamo sicuri che sarà senz'altro la più ascoltata di tutta la stagione sai come la ascolteranno le persone? stanno lì dicendo ah oggi magari è divertente allora inizia ma perché mi stai ricordando? esatto per cortesia tutto quello che abbiamo vissuto noi vi ascoltiamo per fuggire chi ha avuto l'idea della puntata sicuramente non quello che sta facendo questa gag in questo momento perché? perché? sono sulla mia metropolitana volevo ridere oppure al Carrefour sciogliendo le fragole della Basilicata da 150 euro al chilo volevo ridere niente più eh lo so però ragazzi abbiamo detto dall'inizio che era una puntata di sfogo e di confronto quindi lo sapevate sin dall'inizio sì ci sta ci sta abbiamo tante volte abbiamo provato ad uscircene con delle gag divertenti però bisogna anche ammettere la verità che dopo un po' si diventa scemi è vero è vero diventi male c'è voglia a raschiare a produrre idee però questo secondo me è la cosa più pericolosa in assoluto di questo periodo c'è il fatto di diventare un po' troppo passivi cerebralmente verissimo e creativamente è vero è vero è vero teatrofizzi anche perché se non vivi di che cazzo parli questo è un problema che hanno molti artisti comunque sì noi qui secondo me ci rimparliamo bene tutto quanto le idee e così cosa però è vero che mancandoti le persone un po' ti mancano la comicità nasce dal confronto ma anche la musica ma tutto stando soltanto a casa a guardare le dirette di instagram non nasce un cazzo la comicità in particolare perché essendo fatta di furti ad altre persone ovviamente quando ci sono state le prime riaperture poi è un po' di speranza sì ti sei accorto che ti tornavano subito le idee vedendo gli altri no è stata tipo una rinascita ti ricordi qualcosa che hai visto in giro e hai detto questo lo devo metterlo assolutamente in un pezzo ma vabbè ma qualsiasi cosa nel senso bastava riuscire a vedere un secondo anche semplicemente i discorsi delle persone in fila la famosa gelateria nella quale pochi mesi prima vi stavano per arrestare cioè tutto nasce da quelle robe lì da quel confronto certo poi il modo in cui è stata gestita vedere che se stai i servizi con la gente al libero minchia ragazzi siamo a covid street minchia covid street noi ci prendiamo il covid non ce ne frega un cazzo non è esattamente forse quello il genere di confronto che volevamo avere il confronto maturo che fine ha fatto non ce ne è covid la signora la signora ha aperto una sua pagina su instagram quello si ha fatto il pezzo musicale con tre personaggi che c'è Giovanni Brusca e poi ci sono loro tre sono quelli che fanno la musica che Giovanni Brusca ascoltava credo a vederli bene roba da film di Franco Maresco sì esatto passeggiando appena uscì la variante inglese ho sentito uno del Bangladesh che parlava con un senegalese mentre vendevano abusivamente della roba e c'era il senegalese con gli occhi di fuori che non capiva niente di quello che diceva quello del Bangladesh e virgoletto la frase che ho sentito è la virus cambiato sistema ma stava parlando di windows 95 credo gli si era bloccato il laptop e non riusciva più a sentire i parenti no guarda sinceramente speriamo ecco chissà quest'estate secondo me andremo un po' più un po' più cauti esatto molto più cauti gli italiani ma gli italiani diciamo perché zona diciamo come idea costa smeralda che briato regge no che non mi devi rompere il coglione voglia di far festa ma loro di nuovo non ci vanno cauti sicuro no 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 sicuramente loro non non gli passa il messaggio no vabbè ma è anche gente che sceglie un po' di vivere in quel modo lì noi sì io volevo fare una domanda al pubblico magari nei commenti ma certo volevo sapere per esempio noi abbiamo vissuto il lockdown in città grandi quindi comunque con la polizia con i controlli ma chi abitava per esempio in un paese di 3000 anime con zero casi e con il covid magari non è mai arrivato come faceva per esempio che faceva rispettava effettivamente le cose oppure si facevano un po' i fatti loro rispondeteci rispondeteci senza paura secondo me per come funzionano a volte le dicerie in paese come si suol dire se si veniva a sapere che il figlio della barista quello ci ha lambicchiato col covid si sapeva esplodeva nel paese la notte ci si incappucciava esatto ma io mi chiedo anche una cosa scusate se intervengo anche gli isolani adesso c'è la Sardegna che è bianca quindi noi parliamo qua zona rossa zona rossa loro stanno con i ristoranti aperti è tutta un'altra vita tu dici sì a Marettimo a marzo 2020 quanta gente aveva il covid zero zero ma anche a Ponza a Ventotene alle Olie Cicilia non mi parlare del dramma di Pantelleria quello che abbiamo subito quello che abbiamo subito io e l'avvocato è stata una cosa orribile è stata una cosa vergognosa è stato terrificante una settimana con le nostre mogli che è stata si può dire non si offendono quelle due puttane no 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 non si offendono loccati là io Salvatore che mi doveva venire a potare tutti quanti i kumquat non è venuto non è venuto interrotti i collegamenti una cosa da Fenici se mi permetti i Fenici i Fenici il rosso nel mare fermi a Pantelleria fermi per un mese e mezzo e abbiamo sofferto anche se un po' a me Robinson Crusoe mi sono un po' sentito ma perché tu sono tornato un po' giovane ma sei il solito ballista perché te hai riscoperto Proust là io guarda hai riletto la recherche t'ho visto erano tanti anni che volevo rileggere la recherche e devo dire che il lockdown mi ha dato questa possibilità cosa sarà stata la seconda o terza volta guarda io salivo sul tetto la sera mi guardavo un po' il tramonto mi mettevo a leggere poi andavo facevo due passi nel frutteto leggevo Proust e ti dico la verità ho pensato vedi però possiamo ancora imparare tanto come esseri umani anzi mi sono anche augurato che questo lockdown durasse un pochino di più altri 3-4 mesi perché potevamo imparare tanto secondo me anche le persone che abitavano negli appartamenti in città da 60 metri quadrati con 5 persone dentro si può imparare tanto leggete Proust perché questo è il modo per sconfiggere il virus non parlare di cose che non conosci guarda sono devi avere rispetto del pueblo capito so che tu hai utilizzato del popolo so che tu hai spostato invece i tuoi capitali alle vergini britanniche ma questi sono cazzi miei sei riuscito che erano tanti anni col commercialista lo volevi fare e hai detto adesso questo lockdown ci abbiamo tempo ci avevamo la connessione ci avevo una bella webcam ho potuto parlare col commercialista in Svizzera e allora abbiamo risolto il problema finalmente ecco allora io vabbè però intanto quando poi c'era a pagare la spigola non facevi lo schizzo no guarda in quel caso ti dicevo il tempo perduto è tutto tuo e va bene io direi che possiamo forse salutare il nostro pubblico questa puntata che speriamo abbia dato grande speranza nei confronti di tutti vorremmo ringraziare alcune persone che ci hanno omaggiato esatto nelle ultime settimane ringraziamo rizzoli che ha inviato libri libri in gran quantità tutto lo staff di cashmere le ringraziamo perché ci hanno regalato dei bei titoli io vorrei ringraziare vorrei ringraziare Adriano un tassista che ho conosciuto qualche settimana fa con il quale ho parlato grandissimo fan di cashmere ragazzo molto simpatico mi ha detto anche poi c'è stato quel momento in cui avete stavate parlando dei tassisti stavo insieme a dei colleghi lì ho abbassato Adriano mi ha mandato la foto con te dicendo il prossimo sarai tu gli ho detto ma chi è quello Alberto Genovese e ho visto che era un ragazzo giovane era un ragazzo giovane certo lui ricorda quando abbiamo parlato dei taxi abbiamo detto i ragazzi i tassisti giovani sono dei grandi di over un po' meno Carmelo vi voglio salutare solo bene grazie 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 Carmelo grazie Tair grazie Cecilia e Alice e forse un ultimo piccolo appendice su quello che è successo nella scorsa puntata toglierci dei piccoli sassoni della scala perché speranza sì ma anche mettiamo i puntini sulle i allora abbiamo parlato a proposito di i di e-sports tienilo questo aggancio che ho fatto con la e e abbiamo ci siamo permessi di dire la nostra opinione sì la nostra opinione esatto io rivendico sì un conto è lo sport un conto è la competizione ricordatelo sempre ragazzi allora rega ancora che mi state a bumerago allora vedo l'ora di caricare sto video con questo minutaggio aprite dizionario sport qualsiasi attività psico fisica quindi muti quindi drogarsi è sport drogarsi è sport campionato mondiale di chetamina soffiarsi il naso è sport eh sport ragazzi la vita è uno sport la vita è uno sport di Tahir esatto per in tre volumi per mondadori lo presentiamo al maxi e ovviamente è una presentazione online però chi vuole posso dire forse l'hanno sbagliato visto che dieci milioni di italiani si sono riscoperti i gamer l'hanno sbagliato forse per dire che gli sport non sono sport no 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 non è sbagliato giocare ai videogiochi per carità uno ha le sue passioni giocare ai videogiochi è il fatto di dover dire al mondo questo è è una competizione ci sta assolutamente che vuol dire eravamo riusciti a sopravvivere alla scorsa puntata direi di non rinfilarci in questa cosa ribadiamo la nostra posizione e salutiamo il nostro pregiato ha fatto cadere tutto salutiamo il nostro pregiato pubblico e ci risentiamo con una nuova puntata di cashmere la prossima settimana ciao a tutti ciao devo dire una cosa che sui ristoratori era una battuta non l'ho detto fede ristoratori che ciao a tutti ciao a tutti